Ancora un fine settimana di delusione per la siderurgia e non solo. Infatti non si è concretizzata l'ipotesi avanzata nei giorni scorsi che ad alcuni settori strategici tra cui l'acciaio potesse essere concesso di ripartire prima rispetto al previsto, quindi si ipotizzava tra il 20 e il 22 di aprile. L'ipotesi era stata avanzata dal mese ma non sembra aver riscontrato il favore dell'esecutivo che invece ha preferito passare il dossier al gruppo guidato da Vittorio Colau che sta studiando di fatto come poter poi concretamente far ripartire il paese. Quello che appaia chiaro però è che sicuramente l'acciaio è tra i 12 settori chiave tra cui bisognerà far ripartire il prima possibile. Il problema adesso però è il quando. Altre indiscrezioni parlano di un 27, un 28 di aprile però a quel punto non sarebbe nemmeno così inverosimile pensare che si arrivi a quel 4 maggio indicato come data finale dal DPCM del 10 di aprile. Sebbene però l'acciaio sia ufficialmente ancora in lockdown, in questa settimana abbiamo visto un grandissimo numero di realtà siderurgiche a ripartire grazie al meccanismo della delega per effettizia. Siderurgia che però è ripartita ai ranghi ridotti, sono soprattutto lavorazioni a freddo e spedizioni per rifornire quei settori che sono rimasti in funzione e che di fatto hanno finito le scorte per cui hanno generato un minimo di domanda. L'impressione quindi è che quella della settimana scorsa sia stata più che una ripartenza, una riaccensione, una messa in moto degli impianti fermi da troppe settimane per cercare di riportarli a un minimo di regime e soprattutto è stata una prova per mettere a punto i protocolli di sicurezza che saranno la base della ripartenza, quella vera, quando questa arriverà. Grazie. Grazie.